Dopo la fine della storia con Marco Traficante, da diversi giorni circolavano voci inerenti una possibile rottura tra Alessandra Amoroso ed il compagno, Stefano Settebani. In queste ultime ore, per mettere comunque a tacere tutte queste voci, la stessa Amoroso ha chiarito ufficialmente come stanno le cose. Per farlo ha utilizzato il suo profilo Instagram su cui ha confermato, o smentito, le voci sulla sua storia d'amore. Cosa ha confessato? Vediamolo insieme.Alessandra Amoroso, storia finita con ormai è sfidanzato. Le domande che Alessandra Amoroso trovava sui suoi social da parte dei fans erano sempre belle o male le stesse. Si erano accorti tutti, infatti, che da diverso tempo i due fidanzati non postavano più foto insieme o non condividevano momenti della loro quotidianità. Cosa, quest'ultima, che erano comunque abituati a fare appunto che la storia andasse a confine e le volevano detto anche loro averissimo. Alessandra Amoroso e Stefano Sizzapani erano, infatti, stati ospiti di Silvia Dottamina si erano mostrati innamoratissimi e molto felici. Maria, addirittura, che tra i due avrebbero presto potuto esserci i fiori d'arancia. Alla fine, però, qualcosa è andato strutto, di dirgli un amore si è così interrompo. Il posto di Alessandra e la sua voglia di scominciare appunto come anticipato è stata la stessa Alessandra Amoroso a comunicare ufficialmente le fans la fine della sua storia d'amore con Stefano Setteva. E non è facile dato che i due ragazzi erano legati da oltre cinque anni. Pare, però, che alla base della rottura non ci sia una visione diversa di famiglia dei due come se era più volte incotizzato nei scorsi giorni. Sono alto, dunque, i motivi che si vogliono alla base della rottura di questa storia d'amore. Nonostante Alessandra Amoroso sia molto amareggiata per tutta questa situazione, è evidente che la cantante Salettina ha un'incredibile voglia di ricominciare e di tornare ad essere felice. Diverse volte la stessa Amoroso ha specificato che per lei la felicità assolta sarebbe diventare mamma e gli sai che presto questo sogno non diventi realtà. Un momento di fine, è certo, ma anche un momento da cui, presa a consapevolezza dei propri limiti e desini, la cantante riuscirà a ripartire per un futuro radioso. Grazie a tutti.